Sono Riccardo Savare di Reply, il Reply è un grande gruppo leader nel mercato IT in Italia, un'azienda italiana che oggi è costituita da 2.500 persone con un fatturato intorno ai 500 milioni di euro all'anno e copre tutti i settori dell'IT, dalle telecomunicazioni alla public administration, alla sanità, al finance e soprattutto nel caso di Discovery Reply compriamo tutti gli aspetti della multimedialità. Lavoriamo con le televisioni e con le radio e abbiamo un'offerta aperta di multicanalità sulle tecnologie di digital signage, di corporate television, di connected television, quindi abbiamo una nostra piattaforma di media asset management che abilita questo tipo di multicanalità per portare contenuti video all'interno delle aziende, per facilitare la comunicazione interna, per promuovere campagne di marketing, con 3G abbiamo stabilito un'ottima partnership dal punto di dove Reply non si spinge, cioè quella che è tutta la parte di fornitura e installazione di hardware su tecnologie avanzate orientate a multimedia. Da loro abbiamo costruito questa offerta di digital signage con la quale Reply ha potuto impostare una propria offerta a valore aggiunto che sulla piattaforma tecnologica costruisce dei modelli di business e di comunicazione che consentono di introdurre queste tecnologie nelle grandi aziende manifatturiere, finanziarie, creandogli una serie di add-on e facility per tenere i contenuti aggiornati. Il problema di questo tipo di installazioni è dargli una grossa dinamicità e in questo modo noi creiamo tutto quello strato software che consente in maniera facile di agganciare contenuti informativi aziendali, video, interviste, connessioni con l'esterno, televisione dal digitale terrestre, dal satellitare che viene convogliata in questi canali, quindi riusciamo a fare un'aggregazione dinamica di contenuti che li rende molto accattivanti per qualsiasi composito di comunicazione interna.